Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi voglio rispondere ad una domanda che spesso mi viene fatta quando consegniamo le nostre proposte ai nostri clienti. E se dico, ma perché questo preventivo è IVA esclusa? Beh, è IVA esclusa perché purtroppo nel nostro lavoro non possiamo sapere l'IVA finché non sappiamo esattamente chi abbiamo dall'altra parte, il tipo di abitazione e il tipo di intervento che andrà a fare. Infatti a seconda di questi elementi ci saranno sempre delle IVA diverse che potrebbero essere un IVA al 10% dove il caso più comune è una restituzione dell'edilizia, potrebbe essere un IVA al 4% se è una nuova costruzione ed è una prima casa, potrebbe essere un IVA al 22% se è solo una fornitura, potrebbe essere un IVA mista anche a seconda del tipo di materiale che sto comprando quindi i casi sono veramente molti e difficili e finché non ci sono tutti gli elementi il principale è il titolo edilizio, quindi se è una strutturazione, se è una manutenzione ordinaria o straordinaria il tipo di abitazione, ad esempio se è un'abitazione di lusso decadono le IVA agevolate, se è la prima casa insomma se non siamo tutti questi elementi è impossibile per chi fa un preventivo mettere già l'IVA dentro perché sarebbe un IVA dettato dal caso, non sarebbe l'IVA reale, non è come quando uno va a comprare il pane che il pane ha sempre se IVA per tutti, sia che lo vado a comprare io, quello va a comprare te o quello va a comprare un'altra persona mentre negli infissi questa cosa è diversa e l'IVA è anche diversa appunto a secondo di quello che sto comprando quando comprerò gli infissi potrò avere un'IVA mista, quando comprerò una persiana no e quando avrò una zanzaria quando comprerò una zanziera sarà ancora diverso, i casi sono troppi per descrivere in un video e sarebbe anche troppo complesso comunque non ti preoccupare perché se ti affidi a un'azienda che sa quello che sta facendo ti fornirà tutte le istruzioni per avere la giusta IVA nel nostro caso una volta che ci darai tutti gli elementi, titoli e delizi e eventualmente il modulo prima casa se è una prima casa, ti potremmo dire esattamente l'IVA di tutte le varie cose che ti occorrono per la tua nuova abitazione o per la tua ristrutturazione o anche per la sola sostituzione degli infissi dove spesso e volentieri l'IVA è mista, è un po' al 10 e un po' al 22 ciao e al prossimo video ciao